buongiorno a tutti sono dora dora preseller e io adesso sono diretta dall'italia sono ungherese benvenuti a tutti quanti che voglia che tutti quanti che vogliono meditare con me scusate per questa questi piccoli errori visto che io sono ungherese sicuramente non sarà perfetta ma non siamo qua per per correggere la grammatica abbiamo un'intenzione molto più grande di quello e ogni 15 minuti trasmettiamo una meditazione da questa pagina e l'intenzione globale è quello che avete già visto vogliamo raggiungere un milione di persone che meditano con noi l'intenzione sarebbe di aprire il nostro cuore verso noi stessi e aprire il cuore a questo pianeta a questo pianeta che ci ospita che ci dà tutto c'è la natura dietro di me quindi io penso sia un posto perfetto io vi mando veramente un abbraccio grande la mia amore e dalle isole eolie dall'ipari e adesso io metto una traccia bellissima e vi invito di avere questa intenzione di meditare insieme per 15 minuti seguitemi e quando siete pronti piano piano lentamente fatta un respiri profondi forse sentite altri suoni magari qualcuno ride perfetto così siamo nel posto giusto nel momento giusto ancora fate alcuni respiri profondi e quando siete pronti chiudete gli occhi e ascoltate la musica mi piace molto bene allora il migliore dell'ipari e dell'ipari io gli Grazie a tutti. 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 I love me. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti.